Parco ragazzi del 99 invaso da centinaia di bambini e ragazzi che non hanno voluto perdere l'occasione di sperimentare le tante e tantissime attività proposte in occasione della città dello sport, dal calcio alla danza, dal ball e dal baseball, passando per l'atletica, l'equitazione, sub, golf, soprattutto tanto divertimento. Avete provato la corsa? Com'è? Che emozione dà? Facile. Bello. Sì, ti piace correre? Sì. Quante cose avete provato oggi? Adesso io ho appena cominciato quindi ho fatto solo questo. Come ti sembra? Sì, è bello. A te invece? A me sì, sì, bella. Bella, bella. Difficile? No, non ho. Intanto come ti sembra questa giornata? Molto interessante, molto carina. Ti piace correre? Sì. Ascolta, è la prima cosa che stai facendo questa? No, ne ho già fatte altre. Tu invece cosa hai fatto? Ok, calcio a 5, poi pattinaggio, alpinismo, nordic walking e basta. Basta? Ti sembra basta? Hai fatto un sacco di roba? Sì. Ma ti piace questa giornata? Sì. Ti piace lo sport? Sì. Tu fai qualcosa? Qualche sport? Atletica e nuoto. Divertimento aiutando chi ha bisogno, perché lo ricordiamo il ricavato delle iscrizioni alla manifestazione è devoluto alla Città della Speranza che si occupa di cure e ricerca delle oncoematologie pediatriche.